Beatrice Bocca in settima corsia, Brigitta Boifava in ottava. Andiamo a vedere insieme i finalisti dei cento stile libero categoria ragazzi 98-99, miglior tempo Andrea Testolin 53-81 con lui in finale. Giona Mainardis, Leonardo Bardin, Alessandro Bosa, Cristian Sperandio, Andrei Sokolowski in the final, Alessandro Morbin e Alessio Assilli 55-14, ottavo tempo utile alla finale. Per la seconda batteria delle cinque junior femmine Lara Pangos, noterai in due, Rarinante Sadria Monfalcone, corsia tre Carolina Boinez, Vorenica Radoblitz, Slovenia in quattro, Enrica Brendolin, Leo Sport, Giulia Tosato Gabbiano in cinque, Giorgia Mella stile libero in sei, Gloria Dossi Sport Factory in settima corsia. Giulia Compiani intanto 59-91 mette il sigillo alla prima batteria.